What would you do if I sank out of tune? Blue Jeans narra le avventure di un adolescente americano. Amori, storie tenere, commoventi, scansonate, a volte drammatiche, qualche lacrima e tante risate. La vita insomma di tutti i giorni di un ragazzino alle soglie della giovinezza. Blue Jeans, un serial per la tv. Da lunedì a giovedì alle 18.25 su Rai.